Il mercoledì lo dedichiamo alla top 11 del torneo. Le nostre formazioni di tipo incarnano quello che succede negli ultimi 90 minuti e il rendimento di allenatori e calciatori che negli ultimi mesi di campionato si sono distinti. Il tecnico della settimana è Longo del Picerno. L'ex allenatore, anche del Mont Staurus Montoro, sta facendo favile in Lucania ed ha conquistato playoff a suon di vittorie. Cinque nelle ultime sette gare e non poteva mancare al nostro appuntamento. Tra i pali nobile del Foggia, che nel Monday Night contro la capolista Catanzaro ha stoppato l'attacco più forte del torneo, a suon di interventi, ha salvato i satanelli dal KO contro la corazzata di Vivarini. Difesa con Maggioni delle Vespe, che ha sbloccato al menti la contesa contro il Messina. Da Moretti della Vellino, del centralone Scuola Inter, insieme a Dall'Uletto, ha alzato il muro eretto da Rastelli, un gol subito per i Lupi nelle ultime quattro. Poi Giamfi, anche gli Rete con il suo potenza contro il Giuliano e Terrani del Picerno, sempre più leader in casa rosso blu. Centrocampo a 5 stelle con Gladia Stoni del Giuliano. Ormai si è perso il conto per il brasiliano nella nostra top 11. Colucci, forse il calciatore più completo nel suo reparto di tutto il campionato. Seguono Fornito della Gelbison, gol spettacolare per lui all'uscita, e l'ex avellino Manuel Ricci, sempre più determinante per la Juve Stabia di Colucci. In attacco un trio meravigliao. Non sono Neymar, Messi e CR7, ma Chiricò, Gambale e Tommasini. L'attaccante del Crotone salva l'herda dal KO contro la Gelbison. Gambale porta altri tre punti ai Lupi, sette con le sue marcature totali per l'Avellino. E Tommasini invece sta facendo sognare il taranto di Ezzolino Capuano, dopo la zampata decisiva sul Monterosi.